Sono molto contento che loro se lo sentano così e si vede nei giorni di allenamento e non da adesso, si vede da quando sono arrivato che è un gruppo che vuole far meglio, che vuole crescere, che vuole fare e che ho riuscito a cambiare una situazione negativa o uno positivo. L'anno è quasi finito e l'obiettivo era di finirla in maniera dignitosa e credo che la squadra sta facendo proprio questo e che se hanno mandato questi segnali vuol dire che ritengono questa partita simbolica, ha proprio il carattere del gruppo e poi è il momento di dare un segnale anche verso chi comunque è rimasto sempre vicino alla squadra e questo per primo sicuramente i tifosi, quindi è stata bella leggere quelle parole. Se vanno 11 giocatori in campo a ballo da sole farebbe una gran fatica a giocare, credo, quindi sempre 11 giocatori vanno. Quindi insieme a Pazzini ci hai pensato? Sempre 11 giocatori vanno in campo, quindi poi sai, non credo che devo dire oggi chi va in campo o non va in campo, quindi... Ah, questa è già una domanda un po' più... Sì, sì, vabbè, io diciamo, il signor Gagliani ha detto sin dall'inizio, lei è l'allenatore e lei ha l'autonomia per scegliere, diciamo, ovviamente chi va in campo. Come io ho detto che non voglio fare l'allenatore, io non voglio fare l'allenatore, quindi siamo in totale sintonia, ovviamente tutti cercando di fare l'interesse del Milan e questa è la cosa più importante, quindi non mettere in dubbio, diciamo, neanche queste cose, insomma. Grazie. Grazie. Grazie.